Antonio Mancini, centrocampista del Gambatese, arriva questa sconfitta a netta con il Venafro ma il Gambatese ha dato tutto fino all'ultimo, però è stato punito ad ogni minima distrazione da una squadra cinica come quella bianconera Sì, una sconfitta meritata, abbiamo trovato sicuramente una signora squadra che sa giocare a pallone, ci ha messo in difficoltà, ci abbiamo messo del nostro la reazione è stata comunque sterile, insomma chiudere 3 a 0 per il tempo è stata dura Una sconfitta che però ovviamente non cancella quanto fatto di buono finale infatti il vostro campo è il vostro fortino, quindi è qui che bisogna conquistare i maggiori punti quindi potrebbe essere bollata solo come un incidente di percorso Sì, sì, sicuramente, poi ripeto, veniva la prima della classe quindi una squadra che comunque vuole giocare per stare lassù però ripeto, al di là del risultato dobbiamo fare comunque una buona prestazione perché veniamo già da una sconfitta contro il Treppini Sicuramente in casa non ci possiamo permettere di perdere punti e di fare distrazioni già dalla prossima dovremmo sicuramente cercare di conquistare i tre punti È ottimo l'esordio del Nigeria Nocio, anche se la giornata non gli ha sorriso almeno dal punto di vista del risultato, è sembrato già ben integrato nella squadra Sì, sì, lui già si sta allenando con noi da tempo, ha avuto l'opportunità, si è comportato bene Lui, anche gli altri under sono molto validi quest'anno devo dire che i ragazzi meritano e giocano non perché sono under ma perché sono davvero bravi Grazie mille Grazie mille Grazie mille